Gentili telespettatori, buona giornata. Oggi è uscito sul Corriere della Sera il sondaggione Ipsos, quello che viene preso più in considerazione dai politici. Quindi, Fratelli d'Italia raggiunge nelle intenzioni di voto politica nazionale il suo record assoluto al 31,4%, mentre sempre crescendo dell'1,6% sull'ultima rilevazione che è di quasi un mese fa, quando era al 29,8%. Sempre nel centro-destra troviamo la Lega che scende di uno 0,7% ed è al 7,3%, mentre poco sotto abbiamo Forza Italia che cresce dello 0,7% ma è al 6,8%. Noi moderati crescono dello 0,1% ed è all'1,2%. Vediamo che il secondo partito italiano è il Movimento 5 Stelle che cresce dell'1,5% ed è al 17,5%. Infatti Conte è gasatissimo, sogna già di tornare premier, lui è casalino a Palazzo Chigi. Poi abbiamo il terzo partito che è il PD e Italia democratica e progressista, ma perdono l'1,6% e scendono al 17,2%. Quindi è un partito in continua discesa, dalle europee che erano al 22,7%, alle politiche del 2022 19,1%, un mese fa 18,8%, oggi 17,2%. Sempre a sinistra vediamo alleanza verdi sinistra, reti civiche 4,2%, più Europa con Emma Bonino 2,1%, perdono lo 0,8%, impegno civico di Maio non c'è più, non ha più rilevazioni. Mentre non è stato rilevato nelle votazioni da nessuno come Europa Verde, Verdi. Abbiamo poi azione Italia Viva che perde lo 0,3% ed è al 6,8%, Italexit di Paragone che perde lo 0,7% e va verso la sparizione, 1,7%, dal 2,4% all'1,7%. Unione Popolare perde lo 0,1% e scende al 2%, Italia Popolare Sovrana 1,2% cresce di 1,02%, altre liste messe insieme perdono lo 0,4% e sono allo 0,6%. Beh, gli indecisi la stensione è sempre altissima, 40%. Che cosa succede tra centro-destra e centro-sinistra? Il centro-destra cresce dell'1,7% e arriva al 46,7%, mentre il centro-sinistra scende dell'1,9% ed è al 23,5%. Andiamo a vedere il gradimento dei leader, vediamo che nel gradimento dei leader di partito non c'è Giorgia Meloni, perché Ipsos, visto che è presidente del Consiglio, non la mette tra i leader di partito e vediamo che al primo posto c'è Giuseppe Conte con addirittura il 56%, sembrerebbe il politico più amato dagli italiani con la maggioranza assoluta. Ma attenzione, Ipsos ha sempre messo Giuseppe Conte come leader più amato, sempre, sempre, sempre. Mi sembra un po' strano questo. Matteo Salvini sarebbe il secondo leader più amato col 29%, anche qui mi sembra un po' strano. Poi segue Berlusconi col 27%, Maurizio Lupi col 18%, però abbiamo anche Carlo Calenda al 27% allo stesso livello di Salvini. Fratoianni al 24%, Angelo Bonelli al 16%, Matteo Renzi al 12%. Matteo Renzi chiude sempre le classifiche di questo tipo. Poi andiamo a vedere il gradimento per governo e presidente del Consiglio. Il gradimento nei confronti del governo Meloni vede voti positivi il 46% di gradimento, voti negativi il 38%, non sanno, non indicano il 16%. L'indice di gradimento di Giorgia Meloni sale dal 51% al 55%. Quindi la Meloni ha un indice di gradimento abbastanza alto. Però questo è il governo, questo 55% è l'indice di gradimento del governo. Mentre il gradimento nei confronti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vediamo che i voti positivi sono 49%, voti negativi 35%, non sanno, non indicano il 16%. E poi c'è l'indice di gradimento che riguarda Meloni sale dal 54% al 58%. Abbiamo visto ieri un giornale di sinistra di quelli tra i più faziosi che titolava tutta pagina Cala la fiducia in Meloni ha scritto a caratteri cubitali citando un sondaggio. Io proprio ieri vi avevo detto ma come si fa a fare il titolo gigantesco in prima pagina, prima notizia di un giornale nazionale su un sondaggio sul gradimento di Giorgia Meloni che era sceso di un punto percentuale i titoloni. Questo vi fa capire il livore e la faziosità di alcuni giornali che per andare contro il governo prendono un qualunque sondaggio che esce e ne fanno un titolo di prima pagina. Dire ridicolo è dir poco. Oggi il sondaggio di Pagnoncelli mostra il gradimento di Meloni al 58% e il gradimento del governo al 55%. Significa che la maggioranza assoluta degli italiani piace il governo Meloni e Giorgia Meloni tranne per alcuni giornali faziosi di sinistra che prendono il primo sondaggio che trovano e lo spiattellano come prima notizia. Dire deprimente è dir molto ma molto poco, dire deprimente è veramente poco. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.